Le frecce di Robin Hood ed il rombo dei motori per riempire Piazza Stella Maris. Il weekend di Tortore è stato animato da Teatro e Motori, grazie all'organizzazione del terzo motoraduno cittadino a cura del club i Turbolendi e dal musical Robin Hood, il principe di Loxley, presentato dalla Planet Holiday Theatre. Una storia senza tempo, quella dell'arciere che rubava i ricchi per dare ai poveri. Un messaggio universale con una possibile lettura di attualità, messa in scena dal regista e attore Antonio Franco con una compagnia di attori che ha chiuso in questo modo la sua turna estiva sulla riviera dei Cetri. È un misto perché parla sia di amore che di amicizia e poi comunque al suo interno ci sono diverse storie. Il messaggio vuole essere solamente non un messaggio legato alla trama ma un messaggio legato allo spettacolo, in se per sé alla volontà, al piacere di fare spettacolo e spettacolo di qualità, diciamo non solamente nelle grandi città. La rappresentazione teatrale è stata proposta all'interno dell'edizione 2011 del motoraduno città di Tortora, organizzato dal motoclub locale. Questo è un motoraduno organizzato da noi, dal motoclub i Turbolendi, insieme al moto d'epoca, moto e auto d'epoca retro scalea. Abbiamo cercato di fare questo evento insieme per fare una cosa più grande. Provenienza degli amici ospiti? È un po' tutta Italia, penso. Come noi partecipiamo da loro, loro vengono anche da noi. Un appuntamento, l'incontro degli appassionati dei motori, utile anche per parlare di regole e di comportamento da tenere sulle strade. Si parla anche di sicurezza stradale, sia dal motociclista che anche dall'automobilista, in quanto abbiamo cercato di fare questi incontri anche con queste macchine d'epoca. L'attività dei Turbolendi non si ferma all'organizzazione del motoraduno, terminato il quale riparte con escursioni organizzate in collaborazione con gli appassionati dei club del territorio.